Ciao, sono Silvano Piccardi, regista e attore teatrale e infatti siamo in un teatro, al teatro civico Dischio, dove io sono in scena con uno spettacolo, ma sono qui anche per dirvi e ricordarvi una cosa, la sclerosi multipla può colpire ovunque e chiunque, conoscere e informarsi è importante. Il progetto In viaggio i passi di Peter ha anche questo obiettivo, informare. Per questo io cammino con Peter. E tu?